snaffignani welcome back siamo ritornati con watchdogs 2 nella missione principale cyber driver dobbiamo andare a parlare con ranch tanto ci siamo cambiati anche di look lo stiamo facendo più rincos possibile ma anche un look più diciamo hackeroso andiamo a vedere che cosa succederà oggi che cosa ci dirà ranch siamo quasi arrivati 74 metri sa che di qua forse salendo qua sopra sì così eccoci qua c'è anche la macchina devo salire sulla macchina yeah che ramano le sfide oh yeah allora gente accendiamola oddio spettacolo ragazzi più tamarra di così non si poteva fare e dai marcus salta l'acqua è calda sei pronto tu si che sai come diventi cazzo si ok è tutto pronto pronti e azioni è una gara check point oddio altro che check point abbiamo anche che è il motore over ride una specie di nos a cannone proprio oddio oddio oh no no ma no no george non c'è nessuno alla guida no no george devi farti controllare la vista per mille erano occhi e nessuno guida quell'auto merda abbiamo sbagliato il checkpoint qua Sì, sì, lo sto fermando. Sì, sì, mi sto fermando il cazzo. Oddio. Mamma mia. Oddio. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Sì. Ma che cazzo! Siamo in tv. Dì già! Ehi, la fama non mi capirà. Con l'anno di indirezza riceviamo segnalazioni sull'auto di Cyber Driver che esegue acrobazie in tutta la città. Un'auto pazzesca ha aspirato una gran folla. Potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria in vista dell'uscita del film Cyber Driver. Sì, è la descrizione del sospetto. Possiamo dare un'occhiata da vicino all'auto di Cyber Driver che gira per la città. Mi sembra che non lo guidi nessuno. La polizia insiegue l'auto di Cyber Driver. Ehi, che cos'è? Amici, vediamo un logo sull'auto. È scritto... Dead check. Ascosta subito! Cazzo, che storia! Fico. Fermato questo un piccolo! Sì, sì, sì. Ho avuto provvido! Ragali, lei non doveva rischiare la fama accordandosi con gli studios. Va tutto bene, sai perché? No, signora. Perché? Li colpiremo dove fa più sfiga, Hertz. C'è... C'è... 3.000 assalti! No! Sbettacolo! Hai iniziato un po' il sordino e poi boom! I numeri non fanno che crescere. Era il bersaglio giusto. Sì, ma... Sicuro? Hai dei dubbi? No, cioè, certo, guarda che numeri, ma... Non so, è... Ma adesso che facciamo? Insomma, sul serio. Alziamo la posta. Esatto, quello che pensavo. State guardando? Lo so. Sembra Settiu.com. Il canale per i depressioni, o no? Sì, loro... Cioè... Dai, guardateli. Hanno addirittura un loro marchio. Li seguo da quando sono entrati nella nostra rete di server. Porca puttana, non urlarmi nelle orecchie! Usa la tua voce interiore, ok? Comunque... Manca solo la stretta di mano. Collavoriamo con l'Umeni Zulu. Nel caso ci siano dei... danni collaterali nel nostro rapporto. Saranno discreti. Mission completed. Mission completed. E ragazzi, finisce qua... La missione... Di supercar. Di cyberdriver. Quindi concludiamo la terza missione. E ci vediamo... Alla prossima, ragazzi. Che i bastardi della Newton hanno cancellato il nostro video. Ci credi? Oh, certo che sì. Il capolavoro di Jimmy Sisca? No. Ditemi di no. E noi cosa possiamo fare? Vieni alla Kerspazio quando hai un minuto. E pensiamo al modo migliore per vendicarci. Ci sto. Ciao.